Una persona che conosco, che si confrontava con le simili di bellezza o meno, allora dice Francesca Strozzi di TV Bar, ma Baslona, che brutta cultura, e poi dice Ah, quello è un roito! È un roito! È un roito! È un roito! E beh, insomma, nell'era della perfezione, sono bella, alta autostima, e mi portano a vuoi E tutti vogliono venire a letto con me, guarda un po', tutti mi cercano, tutti vogliono parlare Tutti... 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 Ci ha il Norlo. Ci ha il Norlo! Ci ha il Norlo! Ci ha il Norlo! Glûl! 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 Raita Mandini! Raita! No, no, guarda, io non cerco Lombardini motori, lombardini, sì, ufficina Sì, benassè, babababam, buon